Fine dell'attesa per una gradita prima volta. La prima vittoria di coach Beppe Vozza al timone dei Lions. Torna al successo nel campionato nazionale di serie B Biceglie che espugna il domicilio di Scandone Avellino e ritrova il feeling con i due punti dopo quattro sconfitte consecutive. Parcairpino violato con il punteggio di 69 a 64 al termine di una partita incerta praticamente sino al definitivo suono della sirena e la prima affermazione nella seconda fase la decima nel computo complessivo della stagione per i Bicegliesi che mettono in vetrina un Santucci da 21 punti e un Siracov da 16. Doppia cifra con 10 punti anche per secca. Protagonista soprattutto sotto canestro con ben 20 rimbalzi. Incantissimo rotto dunque e vittoria che vale tantissimo soprattutto dal punto di vista psicologico per i Lions dopo un periodo prolungato di appannamento. decisiva al Pala del Mauro negli anni passati teatro anche di partite di Eurolega la maggiore esperienza dei pugliesi nel parziale conclusivo. Ora la parola d'ordine per l'imminente futuro si chiama Continuità. Biceglie quinto in graduatoria nel giorno e dì in compagnia di Cassino tornerà in campo già domani quando nel turno infrasettimanale della sesta giornata ospiterà Rieti capolista del raggruppamento insieme a Cussionico Taranto. Palla 2 al Paladonmen prevista alle ore 18.30.